Il Natale per me è sempre stato un disastro, anche perché compio gli anni la vigilia di Natale e quindi puntualmente tutti gli anni rimanevo da sola perché erano tutti in vacanza. Sono entrata qui a San Patrignano dove ho cominciato a riapprezzare sia il Natale ma soprattutto ho cominciato ad apprezzare me stessa. Una delle tante cose che mi ha fatto apprezzare me stessa è che ho ricominciato gli studi dove frequento l'indirizzo sociale, sono anche una secchiona tra l'altro e quindi questo mi ha fatto ritrovare molta autostima in me stessa. Grazie